Un finale già scritto, non era ipotizzabile che il Premier Draghi di fronte al pressing che va avanti incessante da settimane affinché il sottosegretario leghista Claudio Durigon lasciasse il suo incarico potesse lasciar correre sotto attacco ormai da chiunque per la proposta di intitolare al fratello di Mussolini e il parco Falcone Borsellino di Latina alla fine il fedelissimo Salvignano ha fatto un passo di lato per evitare che la sinistra continui a occuparsi del passato che non torna, invece di costruire il futuro che ci aspetta così si legge nella lettera aperta scritta a tarda sera dall'esponente del carroccio. Ho dovuto constatare sulla mia pelle, con grande amarezza, che esistono professionisti della strumentalizzazione che hanno usato le mie parole per attribuirmi a tutti i costi un'etichetta che non mi appartiene, continua, e qui si arriva al punto clu, si tratta di un'operazione non posso più tollerare e aggiungo che tutta questa polemica sta diventando l'alibi di chi, in mala fede, intende coprire altri problemi, mi riferisco in particolare ai limiti del Viminale, più di 37.000 sbarchi dall'inizio dell'anno contro i 17.500 del 2020 e i 4.800 del 2019, per non parlare dello scandalo del rave abusivo, o delle incredibili parole di Giuseppe Conte sul dialogo con i talebani. Ed è proprio il riferimento alla ministra Lamorgese, oggetto di attacchi quotidiani da parte di Matteo Salvini che viene immediatamente cavalcate dallo stesso leader leghista, contiamo che questo gesto di responsabilità e generosità induca seria riflessione altri politici, al governo e non solo, che non si stanno dimostrando all'altezza del loro ruolo. Parole che lasciano pochi dubbi su quanto la vera contropartita che ha in mente il capitano per il sacrificio del suo uomo forte nel Lazio e per l'inevitabile danno d'immagine del suo partito non sia solo e non tanto piazzare un altro leghista al MEF si fa il nome del leghista veneto Massimo Bitonci ma quello di minimizzare i danni alzando ulteriormente la posta. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!